Raiz mi puoi bannare per un giorno Rocco Brads, grazie Comunque, ho avuto paura dei fantasmi, ho preso una casa in cui sicuramente non ci sono i fantasmi So di essere il primo anche in questa casa, grazie La proprietaria di questa casa è una famosa enologa È la nuova casa Grazie Luca È una famosa enologa, infatti sono pieno Grazie mille Grazie piccola Signora Omiatol mi dedichi un balletto drill Grazie Derek E mi ha detto, mi ha detto Grazie piccola Grazie Los Cisani Doveri per le fuste? Sono andate bene il nostro giullare di corte? Mi ha detto assolutamente non toccare questa busta Grazie piccola Grazie Cangio S-S-S-S-S-S Oh shit Ho la mia nuova serie di design Che cazzo Visto che hai praticamente portato tu Twitch in Italy gli altri stronzi che ne hanno approfittato Hanno almeno ringraziato il genio di Ronaldo Grazie Ave Grazie piccola Buon anno ragazzi Toccato, no, vabbè basta Ma grazie perché io... Ma no, non voglio rubarle Voglio solo vedere che... che... che botti sono Grazie piccola Grazie Gabri Design da gaming Grazie mille Grazie mille È vino, non so che vino sia Ho letto... Grazie piccola Guardate qua Sera Omi Buon anno anche a te Soprattutto buona epifania Ah, buona epifania anche a lei Buona epifania anche a lei Volete vedere che bottiglia è? Però dovete aspettarmi perché non ce la faccio a prenderlo col telefono Più che altro... Grazie Chris Grazie Mani Non sono Chris Ma buon anno Più che altro non... Non... ho paura di romperle Vabbè, vado Ora vi faccio il design tour Grazie piccola Non ho paura del design tour Grazie Condividi nella chat il tuo anniversario dell'abbonamento Fai sapere a Omiatol di esserti abbonato per 18 mesi Punto mostra il mio decorso Io vi metto dentro Grazie pover Solo per farvelo vedere Non... non... non sono una persona che ruba Grazie piccola Grazie Christian Zapp Sono risultato positivo al covid Per sbaglio o star notito in chat Nessun allarmismo chat Mantenere le distanze ed indossare la mascherina Ripeto Nessun allarmismo Consiglio a tutti una quarantena fiduciaria Grazie piccola Grazie Tino Tanti auguri Buonasera signor Hakimi Quanto costa ragazzi? Lo rimettiamo al posto eh Grazie piccola Grazie Blackbubben Top number one grandio Oh? Oh? Grazie piccola Magari Grazie piccola Grazie piccola 3 euro e 99 Grazie Andre Ah ti intendo Grazie mille Giovannone Allora mi dovete dire quanto costa Ve lo dico io Ve lo dico Fate una ricerca Grazie piccola Grazie Gigi Buon anno Buonasera Omi Ti sei trasferito Non ho seguito perché anche io sono stato in sbatti per il tresloco Mi sono trasferito in Ticino per lavoro Buonaserata Buonaserata Mi serve capire Grazie mille Buonasera Omi Bella la nuova casa di design da gaming Grazie brand Allora Volete il tour? Allora House tour Questo come Questo Oh Questo È il primo spazio Grazie piccola Grazie Mikey Ma è la favela definitiva? No Possiamo avvisare Adriano l'imperatore? È il più adatto per tour nella favela, s'altro che Surri Ecco qua Ecco qua Grazie piccola Computer di design Ciao bello Grazie Maga buon anno Lampada di design Fungo Lampada di design Grazie piccola Grazie sgreccio Ciao miau Viva l'edilizia Cane di design 22 metri Wow Guardate per i 22 Ciao Ciao Champagne salon di design Libri Art Tutti i movimenti del novecento di design Impressione di design Vuoi farla positivizzarla? Va bene fallo Però quando la vedi con un altro sta zitta e foce Monette di design Masserie di Puglia Carlo Colombo architect di design Buonasera Bilenna Buonasera MES Tanti auguri Italia in bicicletta di design Gaudi di design Guardare l'arte contemporanea di design Grazie piccola Viva la figa e chi rapina e i blindati Grazie Tuna Grazie mille di design Allora Lampadario di design Ah qua non c'è un lampadario Finestra Grazie Pug Non Vista di design Che sennò qualcuno capisce Vista di design Grazie piccola Grazie bigluis Dove sei scemo? Tvb Sono a Milano In una zona non centralissima Ma in una zona universitaria Toh Mettiamola così Grazie piccola Grazie Don Una funeraria di design Altre candere di design Teiere di design E via Grazie piccola Tanti auguri Buon anno Bella Xyuder Quasi un anno con te Uno Però grazie per l'anno Ragazzi Punto esclamativo Prime In chat Grazie Leo Allora Scusatemi Grazie piccola Smi gli Ehm Chi è questo Che è qua davanti Ehm Ti giri Oh Ok Grazie Grazie Ferra Grazie mille Grazie Tanti auguri Allora Qua c'è un ingresso di design Con cucina Con tavolo Grazie piccola Immaginario Auguri Grazie Che è una cosa di design Tavolo immaginario Grazie Gerrino Tanti auguri Tavolo di design Immaginario Grazie piccola Ehm Con Luce di design Grazie Romi Tavolo immisibile di design Con Grazie piccola Grazie a Zero Fantasy Tanti auguri Prego Romi Cucina di design Teiera di design Grazie piccola Che è un bello Grazie Davide E ragazzi Tavolo di design E vi saluto dopo Valle dell'Arcate di design Grazie piccola Tagliera Minore di 3 Vabbè Ehm Ingresso Ingresso Questo Questo è un ingresso Grazie piccola Grazie al ton Questo è un ingresso Favella definitiva No 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 Ci starò fino Fino al 15-20 Perché È carina ma Grazie piccola È un Airbnb Grazie piccola Devi proprio Cercare il maffitto E i prezzi Grazie piccola E risparmierai molto Grazie sim Tour della casa di Surry 5 forni 1-2 Cioè 2 forni E i fornelli Tranquilli Qua c'è Grazie piccola Grazie alle buonanno Ma chi te l'ha chiesto C'è la cosa C'è la cosa È moderna Finalmente Dopo l'altra merda Qua c'è Grazie piccola Sulle macchiole di volvi Grazie piccola E sui Bella o mi ha abbonato Da 11 mesi Ma ti seguo Da quando tutte le ragazzine Andavano appresso a Zoda E Questa è la mia Grazie piccola È la mia stanza Con questa Luce di design Grazie Lorenzo Che tra l'altro È molto carina Devo dire la verità Il vino che ti ha detto Di non toccare È un Valle della Cate Limited Edition Del 2008 Sono state Sono state prodotte 4.000 bottiglie In edizione limitata Non riesco a trovare Un prezzo Perché è stato servito In un evento speciale Non venduto in commercio Grazie piccola Ok Grande cammello Grazie Nice Grazie piccola Allora questa è la Grazie Luca Quella è la Diciamo la mia parte Perché sono Cioè Mi serve Mi serve Per me Grazie piccola Grazie Paolini Bella casa di design Grazie per i 18 mesi Tante voi E poi qua c'è l'altra parte Che mi ha detto Ok Tanto sei da solo Non ti serve Grazie piccola Questo è un piccolo bagno Il cesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Luissone No Grazie 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 piccola Grazie piccola Buona seba Grazie piccola Grazie piccola Grazie piccola Grazie piccola Grazie Napoleone Buon anno Buon anno anche a te Scusate Ragazzi ho fatto la doccia Ragazzi Ragazzi Wea Genolo City dominerà l'Italia o? O? 12.040 Salute Grazie a tutti Una sabba regalata da Wea Per favore ringraziatelo Che se no mi fate passare per Grazie piccola Per uno cattivo Per favore Grazie mille Wea Sei stato molto gentile per questo regalo Questo è il cesso come a te Natalizio Grazie Grazie piccola Tanti auguri a voi E Wea Grazie mille Tanti auguri di buon anno Oh mi entieri Ti stava per rubare la crash 8 Sono 8 Rodu 12 Ti voglio bene come surri ad un kit di scrittura Grazie piccola Grazie Simone Grazie per i 30 mesi Tanti auguri Allora Va bene La casa l'avete vista Poi c'è un reparto 30 mesi 4 case Grazie a omiti Voglio tanto bene Cuore rosso Buon 2022 In anticipo Che è questa cosa qua Che è una cosa uscena Grazie L E l'altra doccia Di design Di design Grazie Carelli Di design De casa Monica Eccomi Grazie Boc Grazie Grazie per il regalo Grazie Caro Grazie 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 piccola Grazie Grazie Marco Buon anno E sono 3 anni Allora Grazie Marco Allora Buon anno Spendo poco Perché Non ci sto Un mese intero Cioè non spendo Così tanto Grazie Filippo Ciao sono Ciao sono Filippo Condorello Se mi senti Ti voglio bene Grazie mille Spendo come l'altro Airbnb Grazie piccola Però almeno Non ho Il riscaldamento Che mi si stacca A mezzanotte Sesso Bro Grazie piccola Non so cosa dire Non so cosa fare Per favore Mi vergogno bro Ti prego Grazie per le 50 Saba ancora Grazie a tutti